Buongiorno a tutti. Mi voglio presentare, mi chiamo Vito Macina e voglio subito ringraziare la professoressa De Meo che mi ha chiesto la gentilezza di raccontarvi una piccola parte della mia vita. E quindi sono veramente fiero di poterlo fare anche perché spero che con il mio consiglio possiate essere più liberi, tranquilli di fare la giusta scelta anche per il futuro dei vostri figli. Innanzitutto voglio subito fare un grosso in bocca al lupo al nuovo dirigente scolastico che spero di conoscere al più presto e voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i vostri figli per il proprio futuro. Anche perché se non iniziamo adesso a costruire la base per il nostro futuro, la vedo un po' difficile per il nostro paese. Anche perché uno dei problemi più grossi che stiamo sentendo in questi giorni è la disoccupazione, i ragazzi che non trovano lavoro, i ragazzi che non sanno cosa fare. Bene, noi dobbiamo cominciare a cambiare questa ottica e quindi cominciare a pensarla diversamente. Quindi il mio consiglio è appena sentite notizie deprimenti oppure che vi danno la voglia di buttarvi fuori dalla finestra, spegnete subito la televisione e parlate di cose positive, circondatevi di cose positive. Io qui oggi pomeriggio in veste digitale spero di darvi quella positività e quindi farvi sentire un po' più tranquilli anche perché vi racconterò che cosa mi è accaduto di bello. Però la cosa più interessante ve la dirò alla fine, anche perché non vi voglio rovinare il succo del mio brevissimo discorso. Ve la dico molto semplicemente. Il mio percorso di studente è nato proprio nella scuola Marconi. Nell'anno 2000 io decisi di scegliere il percorso dell'Iceo Scientifico, a quel tempo era l'Iceo Scientifico Tecnologico Progetto Brocca, perché volevo fare, all'università avevo deciso di iscrivermi alla facoltà di informatica. L'avevo già deciso negli anni 2000 e ovviamente ho perseguito quell'obiettivo. Quindi uno dei primi consigli che voglio darvi è ascoltate i vostri figli. Molti film, molte cose che si dicevano da piccoli, io voglio fare l'astronauta, io voglio fare il medico. Bene, quello già è un ottimo punto di partenza. Quindi cercate di ascoltare bene cosa vorrebbero fare i vostri figli. Evitate di obbligarli a fare un qualcosa che poi un domani potrebbero pentirsi. A proposito della scuola in cui vi trovate, posso dirvi che la mia esperienza è stata altamente positiva. Un corpo docente fantastico con cui mantengo ancora oggi un ottimo rapporto di schizia, di fratellanza e soprattutto un'ottima struttura che ha offerto diversi strumenti per poter far pratica nei laboratori, nei laboratori di informatica, nei laboratori di chimica, di fisica, insomma tutto l'occorrente che serve per poter avere una crescita su un ampio raggio di materie scolastiche. Quindi la scelta che viene fatta oggi penso che sia la cosa più importante. Per quanto mi riguarda il Marconi è stata un'ottima scuola, lo rimane ancora perché sicuramente vi potranno dire che mi faccio ancora vedere con delle cose di cui vi parlerò brevemente alla fine, però vi posso assicurare che il Marconi secondo me è una scelta ottima anche perché ancora oggi mantiene un'innovatività a buon livello e presenta anche un'offerta formativa di tutto rispetto in tutte, in tutti i campi, in tutte le materie. Quindi secondo me il Marconi è un'ottima scuola da scegliere. Però ritorno con il mio consiglio di prima, evitate di forzare i vostri figli. Dategli la possibilità di parlare con le persone che avete di fronte oppure parlateci voi, insomma cercate di capire il più possibile se è la scuola giusta per voi. Per quanto riguarda la mia esperienza non ci penserei più di due volte, anche perché è stata veramente veramente bella. Bella esperienza, me la ricordo ancora tuttora e la frase tipica è quanto vorrei tornare alle scuole superiori. Successivamente ho deciso di continuare la mia carriera all'interno della scuola c'è il percorso informatica, però io scelsi lo scientifico tecnologico anche perché mi piaceva affrontare anche diverse materie scientifiche, però poi ho deciso all'università di fare la facoltà di informatica e comunicazione digitale. A questo punto, dopo anni di sacrifici, studio, impegno, sono riuscito anche a laurearmi, anzi proprio ieri ho ritirato la pergamena, che ci vogliono tre anni per avere la pergamena, e successivamente ho deciso di non specializzarmi, anche perché non ritenevo idonea l'offerta formativa della mia università, quindi ascoltatemi bene, anche nel mondo universitario cercate sempre di, quando sarà un domani, di lasciare liberi i vostri figli di fare la scelta migliore, anche perché quella poi sarà quella che definirà il futuro di ognuno di loro. Ho deciso di frequentare un corso di formazione professionale perché volevo specializzarmi su una determinata area dell'informatica e poi successivamente ho fatto diverse esperienze di lavoro, stage, ho fatto esperienze anche di formazione, ho fatto da insegnante a dei corsi in particolare dedicati agli over 50, al servizio civile, ho fatto diverse esperienze nella mia vita, fino a darvi questa, con questa notizia vi saluto, voglio raccontarvi il sacrificio di tutto l'impegno che ci ho messo, ci ho messo la mia vita per arrivare a questo punto, ho il piacere di comunicarvi che da lunedì prossimo inizierò a lavorare in Microsoft Italia. Per chi di voi non la conosce è quell'azienda che ha creato il sistema operativo Windows e tante altre cose che ormai penso che si conoscano, telefoni, tablet, altre cose che insomma sono alla base per l'innovazione tecnologica e quindi sono cose che alla fine strumenti che si utilizzano. Ho il piacere di dirvi questo perché dopo tanti anni di sacrifici, di impegno, di studio, ribadirò sempre questo concetto, sono riuscito a realizzare il mio sogno. Sì è vero, da quando sono piccolo ho sempre detto io voglio lavorare in quella azienda. Bene, con sacrificio, impegno e costanza sono riuscito a realizzare il mio sogno e vi voglio salutare con questa immagine che penso dica molto di più, anzi esprimo molto di più la mia felicità, la mia contettezza per essere qui a testimoniarvi che il futuro sono i vostri figli, lasciateli liberi di inseguire i loro sogni. Io l'ho fatto e ci sono riuscito, quindi un grosso in bocca al gruppo a tutti i vostri figli, vi saluto e spero di vederci presto. Ciao!